Il sistema lavoro nel territorio della provincia Barletta-Andriatrani è in delicato equilibrio. Lo si evince dai dati forniti dal primo rapporto dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, commissionato dalla provincia e commentato con ottimismo dall'assessore Pompeo Camero. Si parte però dall'assunto che la crescita del sistema economico sia modesta nella BAT come nel resto del Paese. Premesso ciò, elementi come l'indice di flessibilizzazione del lavoro possono essere accolti positivamente. Ogni lavoratore entra ed esce dal mercato del lavoro più volte durante l'anno e questo porta ad un dato considerato accettabile della tenuta occupazionale. Il dato di occupazione a livello nazionale è del 56,9% che scende vertiginosamente se si considera il sistema meridionale dove arriva al 44%. Risale appena se si considera l'area regione Puglia 44,8%. Arriva quasi al 46% nel territorio della BAT. Il contratto a tempo determinato nella BAT è il più utilizzato. Ogni sette contratti a termine se ne registra uno a tempo indeterminato. Ma se questo favorisce un tasso di occupazione, come detto, accettabile, comporta un indice di precarietà molto alto. Che è più pressante sul lavoratore di età compresa tra i 15 e i 30 anni, per i quali è sfruttata molto poco la possibilità offerta dal contratto di apprendistato, è per i lavoratori oltre i 44 anni. La fascia maggiormente interessata dall'avviamento al lavoro parte dai 30 anni e arriva ai 44. Il settore di occupazione prevalente nella BAT resta quello dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, che occupa il 45,3% dei lavoratori di questo territorio. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio occupa l'11,6%, alloggio e ristorazione 8%, il manufatturiero scende ancora al 7,9%, l'istruzione al 6% e poco sotto c'è il settore delle costruzioni, che occupa il 5,8% della popolazione lavorativa della BAT. Allo stesso modo è nei servizi turistici e nei pubblici esercizi che risiede la maggiore richiesta di lavoratori specializzati da parte delle aziende. Le imprese della BAT chiedono un lavoratore che abbia la capacità di comprendere le esigenze della clientela e che possa intercettare e rispondere alle esigenze di questi soggetti. Il lavoratore deve avere una formazione che comprenda tecniche di comunicazione efficace.